Ok, eccoci, siamo in onda, quindi benvenuti cari amici, siamo sintonizzati e soprattutto abbiamo appena terminato in questo momento di sistemare e preparare il meraviglioso set di oggi. Finalmente mi è capitata tra le mani la possibilità di trattare la pop art e la street art, quindi due fenomeni decisamente attuali, perché l'attualità è anche un po' il collante che lega principalmente questi due mondi, questi due modi di esprimersi, questi due modi di tracciare delle società a partire dalla seconda metà del Novecento ed esprimerla soprattutto con termini universali. Quindi sono molto contenta della tematica di oggi, abbiamo preparato un set con circa una quarantina di opere. Sarà una trasmissione dinamica proprio come lo è, no? Questo stile, questa impronta eclettica, movimentata, fatta di icone, di simboli universalmente riconoscebili, perché poi sono questi significati che noi riusciamo ad interpretare quasi virali, io li ho definiti, studiando nel dettaglio alcuni artisti. e da cosa cominceremo? Allora, intanto volevo fare un brevissimo preambolo, cioè spostiamoci un attimo di qua, Max, seguimi, non ti preoccupare, tanto è una piccola parentesi veloce, noi ci passiamo, non si nota niente. Così intanto possiamo già far fruire il nostro pubblico di una panoramica generale, facciamo capire quali sono gli artisti presenti nel set di oggi, perché far collimare nella stessa trasmissione due manifestazioni artistiche, mi piace anche definirle così, che sono la pop art e la street art, chiaramente non coincidono, ma ci sono tante connotazioni nella fase germinale, poi anche nelle fasi più mature della pop art, perché proprio temporalmente avviene prima, e poi della street art, che è un po' la manifestazione principale del nostro millennio, e quindi dovremo capire perché abbiamo accostato queste tematiche che in un certo senso si differenziano, ma nell'altro si compenetrano, quindi ci sono assolutamente delle caratteristiche che coesistono. Ecco, questo è importante già sottolinearlo. Gli artisti che abbiamo selezionato in realtà sono disparati, e lo potete già scoprire dal pdf che Stefano vi potrà girare dal nostro centralino, e io lo consiglio sempre, lo consiglio sempre perché è una sorta di anteprima, una sorta di anteprima che noi vogliamo sempre riservare al cliente, che per noi viene prima di tutto e di tutte, quindi ben venga, è giusto che io democraticamente ve lo dica subito, inizio la trasmissione, fatevi spedire la lista e controllate chiaramente, oltre agli artisti che tratteremo, i relativi prezzi, relative proposte, perché ce ne sono di incredibili. E perché dico incredibili, no? Un parolone con l'eco che risuona come se oggi trattassimo le occasioni più vendibili e acquistabili del secolo. Ma da un certo punto di vista c'è anche del vero in questa affermazione, c'è del vero, perché ci sono, sono presenti nel set di oggi personalità che hanno segnato dei cambiamenti, personalità che io non mi limito a circoscrivere in figure o in personaggi, ma che hanno generato dei veri e propri fenomeni. Cosa intendo con fenomeno? Con fenomeno intendo qualcosa che continua ad esistere oltre la scomparsa dell'artista e un qualcosa che si genera oltretutto e viene apprezzato e si inserisce in un contesto della società quando l'artista è ancora in vita, quando l'artista ancora opera, quando l'artista è sia nella fase iniziale ricca di energia, di sperimentazione, fino alla fase considerata matura, che non per forza significa essere la frase priva o denutrita di quello che è il seme che spinge l'artista a sperimentare. Tutt'altro, perché vi dico solo qualche nome presente nel set di oggi intanto. Allora sicuramente come rappresentanti della pop art non potevamo escludere né il grande Mario Schifano per quanto riguarda il nostro contesto, ma anche Andy Warhol, è impossibile impossibile da escludere, da tenere fuori da questa affermazione pop art molto significativa ma anche molto generale, perché rientrano tante filosofie all'interno di pop, quello che è pop anche oggi il mondo è tendenzialmente pop sotto tanti punti di vista. Il fatto di trasferire dei significati iconici che possano essere condivisibili da chiunque e quindi chiunque possa fruire di istantaneamente un significato diretto, questa è una cosa pop, una cosa che è allo stesso tempo elitaria ma alla portata di tutti. Quindi è un po' un'arte contraddittoria che a me personalmente lo dico, mi devo già esprimere in termini positivi, personale sicuramente, ma positivi. Io ho scritto una tesi, la prima tesi di laurea sulla pop art, quindi per me è un movimento, un fenomeno che insomma ha un certo valore esponenziale, un valore che trovo tutt'oggi prettamente e fortemente attuale. Quindi iniziamo proprio da alcune opere di Andy Warhol e vi spiegherò anche perché. Perché delle volte quello che questo grande artista, fenomeno, personalità icona poi del novecento, perché dal mio punto di vista io lo definisco sempre un po' scherzosamente ma è quello che realmente credo, è un genio del male, cioè una personalità che è riuscita a creare delle dinamiche e a far sì che, come diceva lui, non è importante vivere per sempre, è importante creare qualcosa che viva per sempre e effettivamente la sua filosofia è oggi più attuale che mai, le sue quotazioni, l'ammirazione che riesce oggi a coinvolgere una fascia che io in primis, da giovane e neofita nel mondo dell'arte mi rendo conto sia difficile coinvolgere, cioè i giovani. La street art e la pop art sono effettivamente due fenomeni che, proprio perché universali, riescono a coinvolgere universalmente più fasce, più fasce di pubblico, più target di amatori dell'arte. E quindi iniziamo proprio con questa storia di queste particolari serigrafie dedicate ad una delle icone fondamentali del novecento, la grandissima Marilyn, e quindi dal 1967, proprio nella sua scomparsa, chiaramente Andy Warhol inserito in quello che è il contesto mediatico vero e proprio, all'interno proprio delle radici, lui sperimentava tutto, era uno sperimentatore a 360 gradi, quindi non si limitava e non si è limitato a creare delle produzioni iconiche, le serigrafie, ma ha anche realizzato dei movimenti, la factory, e chiaramente the factory è un ambiente in cui bazzicavano e che frequentava i migliori attori, i migliori artisti, tutte le personalità un po' di fama, ecco, ognuno nel futuro godrà di 15 minuti, sarà famoso per 15 minuti. Le persone che frequentavano questi ambienti urologiani erano tendenzialmente delle persone famose. E quindi il cinema, ecco, tutto un collimarsi a vicenda di forme differenti, espressioni differenti d'arte, e questo ci piace, ci piace perché il Novecento, dalla seconda metà, in particolar modo, è espressione universale di diverse forme d'arte. Subentra la fotografia, iniziano ad essere esasperati tutte le tecniche dei collage, della street art, degli spray, nuovi materiali, industriali, insomma, è una sorta di calderone, anche caotico, da cui un artista come Andy Warwick riesce ad estrarre quella che poi è l'iconicità che fino ad oggi continua a persistere e ad essere soprattutto amata dal pubblico, che è quello che vi e ci interessa, no? Assolutamente, questo è il punto in comune. Quindi queste serigrafie io chiederei gentilmente a Marcello se riuscisse a mandarle in onda, mandarle in schermo perché è interessante la storia che sta dietro, è interessante il perché, no? Che è quello che dobbiamo chiederci, perché acquistare, perché investire, oltretutto, una cifra così interessante per acquistare oggi, in queste due ore di diretta, una serigrafia a tutti gli effetti originale e legale, adesso andiamo a spiegare proprio la storia, no? Di Andy Warwick, perché? Quindi, ecco, partiamo proprio con questa, no? 91x91, già la misura, già le dimensioni ci suggerisce un qualcosa in più, perché effettivamente le serigrafie originali, quindi parliamo della prima edizione degli anni 60, del 67 in particolar modo, misuravano proprio 91x91, anzi per essere precisi, 91,4 per 91,4, questa era la dimensione che ha voluto tracciare per questa produzione. E ovviamente noi cosa vediamo? Vediamo il volto iconico di Marilyn, protagonista indiscussa di una delle sue principali serie, perché lui non sceglie solo e non estrae solo dal mondo del cinema, dalle esperienze cinematografiche, ma anche chiaramente dalla produzione industriale, sappiamo che la sua comunicazione è basata ed è filtrata proprio da questo, dalla condivisione di ciò che è industriale, da cosa è commerciale, da cosa è riconoscibile a tutti e come lo fa? Lo fa chiaramente con dei colori che sono pop, cioè tutto è coerente nel voler comunicare un'espressione pop, quindi questi colori vivaci, industriali, levigati, forti, espressivi, ma adesso inizia la storia perché voi mi direte, sì ok ma arriviamo al dunque, capiamo perché io oggi devo investire e ve lo dico subito anzi perché giusto che lo sappiate in anticipo, visto che abbiamo una serie limitata di questa produzione che sto per mostrarvi, sono solo 5 vero? Solo 5 esatto, tra poco poi a ventaglio magari qualcuna ve la faccio intravedere, ma sappiate che sono solo 5 e la cosa interessante è, alla tiratura limitata perché dovete chiaramente riservarvela con Stefano al centralino, è la proposta! Assolutamente, vi spiego il perché del tutto, adesso andiamo a spiegare tutto, 600 euro, 600 euro, allora prima di tutto quello che io farei, ma perché cerco anche sempre di immedesimarmi al di là di questa sterile telecamera dove so che ci siete voi seduti nella vostra, nella vostra salotto, nella vostra casa insomma, a seguirci, quindi faccio finta di essere là con voi, di parlare con voi, è questo che a me piace di questo lavoro, poter sentirmi comunque al di là di questo obiettivo, c'è una storia incredibile, molti di voi già ne avranno sentito parlare, che è la storia e l'argomentazione sulle edizioni e le pubblicazioni della Sunday di Morning, che oltretutto, oltretutto, c'è dietro, come si può dire, la storia misteriosa che poi è la stessa cosa che genera il fascino, il mistero, anzi è proprio il mistero che rende affascinante questa produzione, ok? Grazie Stefano che ce la sta già preparando, così adesso possiamo vederne una e poi io vi elenco anche le altre alternanze cromatiche, ci sta creando l'angolino, così le potete già vedere e sceglierle singolarmente. È una storia particolare perché lui inizia, alla fine degli anni 60, a realizzarle in America e ci spostiamo, così intanto grazie Max ce le fai vedere, questa ad esempio poi è una delle mie preferite, la trovo bellissima. E cosa succede? Succede che si accorge subito del successo che questa tecnica, la serigrafia legata all'iconismo di queste star del cinema, Mary Rindiscussa star del cinema del Novecento, ottiene e quindi chiaramente essendo Warhol un genio della produzione commerciale e di quella che poi oggi diventerà e sfuocerà in un certo senso anche nella financial l'arte, perché poi ne parleremo. Lui già con lungimiranza sapeva come allo stesso tempo celebrare e condannare, criticare la sua contemporaneità. È questa la grandezza di questo artista che dal mio personale punto di vista è uno dei più grandi artisti del Novecento. È riuscito a far collimare l'aspetto commerciale che non può non esistere nel mondo dell'arte, esisteva anche quando erano commissionate le opere. Figuriamoci quando inizia a dirrompere la società industriale consumistica a cui lui assiste, in cui lui vive. Quindi è proprio testimone primario di questo cambiamento. Un cambiamento radicale, forte, potente, non solo per il suo linguaggio espressivo. Il linguaggio espressivo è il riflesso e la conseguenza di cosa? Di un cambiamento di matrice sociologica, politica, prima che un cambiamento di natura artistica. Quella è la conseguenza, il punto di arrivo, la testimonianza che ne deriva. Ma è sociologico, storico. Perché? Perché quella che chiaramente viene definita società liquida, ecco, così la possiamo assolutamente definire in onore del grande Bauman, questa è la società che ha caratterizzato il periodo in cui ha vissuto uoro, il periodo in cui ha iniziato a produrre uoro, la commercializzare. Ecco. E quindi lui l'ha tradotta perfettamente, ok? Una società in cui irrompe il consumismo e alla comunità si sostituisce un tipo di società in cui non si è più produttori ma si è consumatori. Quindi veramente il mondo si è trovato alienato di fronte a questo cambiamento estremamente drastico e profondo, ok? E da qui deriva la pop art, da qui attinge la pop art. E ritorniamo a far vedere nel contesto, così io vi racconto un po' questa storia, vi racconto questa storia in cui, come riprendo dove ero rimasta negli anni settanta, lui comunque manteneva dei rapporti e delle relazioni intense costanti con i paesi europei. E questo cosa comporta? Comporta il fatto che, chiaramente, si estendono delle dinamiche commerciali. Ovvero lui parla con due personaggi, due figure che vivevano e lavoravano in Belgio. E quindi cosa succede? Praticamente lui invia dall'America la sua ricetta segreta, come se avesse inviato il suo brevetto. Ecco, quello che oggi potremmo tranquillamente definire un brevetto, per realizzare in maniera autentica ed originale la sua opera. Quindi tutto il procedimento tecnico, spedici negativi della fotografia, tutto il corredo e i tools, quindi gli strumenti a tutti gli effetti, per realizzare l'opera che voi in questo momento avete di fronte. Quindi l'opera originale, realizzata però non negli anni sessanta ma dopo. Perché? Perché quella che poi è a tutti gli effetti un'azienda, quindi la Sunday morning, cosa fa? C'è stata una sorta di malinteso. Qualcuno deve aver persuaso, corrotto Andy Warhol dicendogli guarda stai attento perché questa manovra potrebbe inquinare, potrebbe essere dannosa nei confronti dei tuoi risultati commerciali ed economici. tanto più si può parlare di risultati economici e commerciali nel contesto della pop art di quegli anni. E quindi lui diciamo che non è che legalmente affronta questa questione impedendo legalmente alla Sunday morning di riprodurre le sue serigrafie. Tutt'altro si devono essere intesi in altre maniere, con altre vie di comunicazioni non legali e dice vabbè dai fermiamo questo progetto perché chiaramente magari qualcuno gli ha messo la pulce che avrebbe potuto rovinare i suoi piani, il suo tornaconto. Nel frattempo veramente io già mi aspetto le richieste e le conferme con questo prezzo perché io ve l'ho già detto di 600, quindi te lo metto così Max. Ecco, che bella anche questa. E adesso vi faccio vedere cosa succede. Succede che io la giro perché è necessario, no? Oltre al fatto che è un processo, un procedimento che spesso mi trovo a fare con le tele, io lo dico sempre, guardiamo il retro del quadro per capire qualcosa in più, sempre assolutamente, si trovano dei tesori e delle storie incredibili. E succede questo che innanzitutto chiaramente veniva appressa nel retro con inchiostro la scritta published by Sunday B. Morning, quindi pubblicata da Sunday B. Morning come per identificare la serigrafia e differenziarla da cosa? Dalla produzione americana e circoscrivere che fosse quella europea. Quindi ok, ci sta però, diciamo dietro, timbriamo l'opera, la serigrafia con questa, con questa scritta, no? E anche qua vediamo un'altra nota che va specificata assolutamente, perché? Perché oltre a published by Sunday B. Morning noi troviamo fill in your signature. Quindi sta cadendo il palco, infatti vedi, io avevo detto che oggi questo microfono non funzionava da Dio. Allora, eccoci qua, scusate, ho sistemato il tutto. E perché fill in your signature? Perché lo spazio questo, no? Dettato da i puntini erano proprio apposti nel retro dell'opera per far sì che l'acquirente o chiunque volesse prendere, rendere proprio a quest'opera potesse firmare con anche la propria firma, la propria personalità, no? E questa era proprio nel mondo, no? Dove la democrazia e la produzione di massa vedevano l'arte serializzata. La tua firma, era questo il messaggio, può contare tanto quanto quella dell'artista. In realtà, vedete, è un modo geniale, secondo me, di dissacrare e allo stesso tempo esaltare e testimoniare la realtà. Cioè, questi sono gli schemi dell'affascinante cambiamento sociologico, politico, culturale che ha attraversato Andy Warhol, no? E quindi sono di fatto degli originali perché? Perché intanto sono realizzati con il brevetto che Andy Warhol stesso ha comunicato alla produzione europea. E poi la grandissima è miracolosa fortuna. Scusate che cambia un attimo al volo la calamita del microfono, poi mi esco il discorso, scusate, ma è un incidente di percorso. Eccoci qua. Andiamo su quella... Andiamo, Max, a far vedere quella a parete, per favore. Ecco, quindi stavo dicendo, no? Cosa succede? Che praticamente gli autorizza, dopo avergli dato gli strumenti, con la stessa tiratura di quelle americane. Quindi praticamente lui aveva creato delle cartelle dove dentro ad ogni cartella cosa stavano? Stavano dieci versioni di Marilyn che si identificavano in dieci variazioni di colore. Ecco, questo erano quindi dieci Marilyn, dieci variazioni di colore. Questi cromatismi esagerati, fluo, neon, che si accostano e che caratterizzano l'iconismo pop di queste serigrafie di Andy Warhol. E quindi la tiratura era di 250 esemplari per dieci versioni, quindi alla fine 2500 fogli, se non sbaglio. E su ciascuno, nelle versioni della prima edizione, c'era la firma e la numerazione progressiva. Poi succede che gli autorizza in Europa a riprodurli, ma li fa ridurre a 84,5 per 84,5. Era una distinzione, no? La scelta di ridurre il formato per distinguere la produzione americana da quella europea. Quindi piccola differenza, i colori restano gli stessi, la tecnica resta la stessa, perché da lui comunicata non cambia niente, se non una differenza di dimensioni. E poi cosa succedeva? Che in quelle più geniali, no? Quando gli capitavano nei suoi viaggi, nelle sue esplorazioni europee, dove manteneva e aveva i contatti, che qualcuna di queste serigrafie gli passasse tra le mani, addirittura la girava e aggiungeva un'altra scritta, scriveva This is not by me, ok? E la fermava. Fatto sta che, chiaramente, no? Bisogna avere anche un rapporto e un supporto di valore a quanto detto, perché se una serigrafia autentica delle prime edizioni degli anni 60, del 67, viene aggiudicata e ha un valore, una stima che parte da 150 mila euro, almeno, almeno perché le aggiudicazioni inferiori o le proposte inferiori destano sempre dei dubbi, questa è la verità del mercato attuale su questo prodotto, su questa merce, devo parlare di merce quando si parla di mercato, vi dico che le edizioni che lui stesso aveva bloccato la produzione dopo avergli svelato il segreto, firmate dietro con scritto This is not by me, quindi, vedete, sconsacrava l'originalità rendendola automaticamente più originale, scusatemi, ma è un genio, a me viene da pensare solo questo, a più di 60 mila euro, aggiudicate due anni fa. Quindi, vedete, prima parlavo della sua filosofia, del fatto non bisogna vivere per sempre, bisogna creare qualcosa che viva per sempre, lui ci è riuscito alla perfezione, ci è riuscito alla perfezione, perché oggi, nonostante queste non siano le tirature delle prime cartelle negli anni 60, a partire dal 67, quelle numerate in serie con la firma, ma siano le produzioni postume realizzate nei decenni degli anni 80 e 90, ok? In particolar modo, questo è il mio consiglio, lo notate da una differenza del colore dell'inchiostro, cioè prima degli anni 90 fino all'85 circa rimaneva nero lo stampo d'inchiostro, mentre successivamente diventa blu, come in questo caso, le edizioni dei primi anni 90 e quelle, diciamo, meno recenti della Sunday morning, valgono comunque qualche migliaio di euro e noi ve lo stiamo proponendo a 600. Io, sinceramente, senza pensarci e senza rifletterci, incorniciate e portate a casa, non sarei neanche, come ho appena detto, a pensarci, non sarei neanche a pensarci, perché lo stesso genio vi ha lasciato in mano per il futuro un qualcosa che con grandissima probabilità, più che probabilità, perché alla fine le aggiudicazioni parlano più di un se, di un'ipotetica probabilità, ok? Varrà sempre. E perché non aggiudicarsi un'opera che oltre ad essere iconica e rappresentativa di uno dei più grandi artisti del Novecento, il re e l'icona, il fenomeno della pop art, ok, ha alle spalle una storia ancora più particolare che rende oltretutto accessibile l'opera al di fuori di quell'elitarismo del collezionista che se la compra, ok, venga con l'aggiudicazione a 150.000 euro. Ma quest'opera, e prima dicevo, ha la miracolosa benedizione per voi, che la potete acquistare oggi a 600 euro di cosa? Di essere pubblicata, perché questa è la sacrosanta verità, se avessi qua il catalogo ragionato lo tirerei immediatamente fuori, ma abbiamo degli scatoloni in cui stiamo riordinando la nostra numerosissima libreria, è vastissima, quindi migliaia di libri che sono purtroppo in scatolati, io non posso andare ogni mercoledì a togliere un tassello perché diventerebbe un casino, una confusione, ma sono pubblicate nel catalogo ragionato, quindi nel catalogo principale in cui viene chiaramente argomentata non solo la versione degli anni 60, la prima edizione, ma viene raccontata tutta questa storia che vi ho appena spiegato, viene circoscritta e testimoniata con le foto a contrasto delle differenti serigrafie, quindi dal mio punto di vista ha un fascino aggiuntivo, ha un qualcosa in più che è il fascino del mistero, oltretutto che non siano mai riusciti a capire perché Sunday Be Morning, certi cercavano di smontare un po' l'anagramma e di cercare un significato all'interno e hanno detto che Sunday Be Morning potesse stare per Sunday Belgian Morning, visto che provenivano dal Belgio queste due figure con cui lui teneva i contatti e manteneva i contatti con l'Europa, ma in realtà a me è venuta in mente un'altra cosa che magari io la sparo così, ma sinceramente a me viene in mente Sunday Morning, essendo stato un pezzo scritto da The Velvet Underground, di cui lui ha addirittura curato la copertina, la grafica, mi sembra più logica questa deduzione, ma poi chi lo sa, è bello il fascino del mistero, è bello anche il non sapere, ok, che ci spinge a affezionarci alla storia e non solo al prodotto come commerciale in sé, quindi fammi rivedere questa che è come la potrebbero, come anzi come la riceverebbero proprio a casa, incorniciata perfettamente, vedete con tutta già la predisposizione e io ho altre quattro versioni, oltre a quella già a parete, io ve lo consiglio, ma ve lo consiglio vivamente, a 600 euro, a 600 euro, se non è questa poi una delle proposte per avvicinare, questa qui va in conferma, la seconda, facciamo vedere questa, che è confermata e nel frattempo facciamo così, io ve le mostro a ruota, a ruota che ogni tanto introdurrò durante la trasmissione una cromia differente, perché questa ve la dovete portare a casa tutti oggi, a 600 euro, l'ho detto subito pubblicamente e c'è Stefano che ha già l'ordine degli interessamenti e delle richieste, quindi questa la leviamo e portiamo un altro colore, in modo tale che la possiate intanto intravedere, altrimenti, altrimenti, vi mandiamo la foto completa con tutte le proposte, ok? Questa era la prima parentesi di questa trasmissione, ecco, siamo già subentrati con la seconda, con le cromie del giallo, che poi tipicamente viene definito giallo industriale, ho letto un libro che consiglio, che si chiama Cromorama, stupendo, in cui vengono definiti i colori della società, dall'antichità ad oggi, nella società industriale, vengono definiti con una terminologia che poi viene approfondita, il giallo viene definito giallo industriale, ci sono tutte le spiegazioni con il prodotto e fatalità, si parla di pop art anche in quel contesto, quindi fammi vedere anche questa, rivediamo quella parete e poi passiamo a delle altre opere, iniziamo già a mostrare un po' di pop, un po' di street art, iniziamo a far vedere, no? Questo contrasto che è un po' Так, ci siamo a tutti qui, comp Credele stiamo inOLute, grazie, no? No, like se parola della società italiana, grazie molte e altre opere, nel Ecco qua, arrivano le richieste, fatevi mandare il pdf, fatevi mandare tutto, queste veramente aggiudicatevele il prima possibile, è un mio spassionato consiglio, perché vedete la genialità è stata questa, il fatto intanto che siano pubblicate, quindi il fatto che siano legalmente certificate come opere legali a tutti gli effetti, opere originali a tutti gli effetti, ma il fatto di questa storia, poi sarà che io guardo sempre la particolarità anche nella posizione da collezionista nel scegliere un'opera, questa è una considerazione di cui io chiaramente terrei conto nell'acquisto, tanto più se si 100 euro proprio non ci penso, ok? Perché viste le aggiudicazioni delle produzioni degli anni 80, ok? Quindi quelle successive alle prime edizioni del 67, 60.000 due anni fa, quindi insomma un pensierino, sicuramente qualche migliaio di euro già le valgono, quindi approfittatene, e nel frattempo no, passiamo già a contrasto, quindi non facciamo per forza un filo logico, non tiriamo un filo conduttore in modo da scendere queste due ore in pop art e poi street art, ma cerchiamo di analizzarle anche a contrasto, a contrasto per capire cosa? Per capire cosa le accomuna e cosa le differenzia. La street art è intesa come un fenomeno in realtà molto spontaneo, molto vero, democratico e popolare assolutamente, perché? Perché si sviluppa in un contesto che non è quello dello studio e non è quello dell'atelier inizialmente, ok? Perché poi ci sono tutte le invasioni di campo, come io le chiamo, cioè il portare la street art dall'esterno all'interno, come hanno fatto degli artisti che abbiamo selezionato oggi. Partiamo con Marte, partiamo con Marte. Facciamo un, adentriamoci prima nelle opere, facciamo capire lo stile, l'impronta, mostriamo subito anche a livello estetico di cosa stiamo parlando, cosa continua a permanere, ad abitare le opere, quindi sicuramente delle figure iconiche, adesso scorrendo vedrete, no? Riproduzioni di classicismo, la Monna Lisa, le Veneri, ecco qua, la Dama con l'Ermerlino di Leonardo da Vinci, quindi adesso vi accorgerete di tutte queste raffigurazioni che sono universali, volutamente universali, perché? Perché la street art intanto si fa strada con l'inizio del nuovo millennio e dove la troviamo? Lo troviamo negli spazi, spazi urbani, metropolitani, soprattutto nelle città, no? Questa sorta di volgarmente definita, perché tuttora viene volgarmente definita così, ma io non lo trovo dispregiativo, cioè tante volte capita di scivolare nel definire l'imbrattamento dei muri, cioè il riempire, esasperare, far convivere in uno spazio pubblico, in uno spazio urbano, in uno spazio cittadino, quello che alla fine è proprio lo stesso racconto della quotidianità urbana e cittadina, che cos'è? I simboli, la pubblicità, i cartelloni, i poster, gli stencil, cioè noi siamo quotidianamente operati da tutto ciò, sommersi oserei dire, no? Tant'è che siamo arrivati al punto di una saturazione tale che non ci permette neanche di stare lì e soffermarci alla contemplazione di certi simboli, perché certi simboli per noi sono diventati talmente virali, talmente semplici ed universali, che li assorbiamo in maniera quasi indiretta, in maniera quasi scontata. E quindi cosa fa Marto? Sfrutta questo movimento fatto di cose, di azioni seriali, di immagini simboliche e li posiziona, come fanno gli street artist, in delle zone importanti e strategiche della città, sfrutta le installazioni cartacee, gli ornamenti che il passante quotidianamente nota nella vita frenetica, dove l'interazione comunicativa è all'ordine del giorno, sotto qualsiasi tipologia poi di forma, dai media alla pubblicità cartacea. Oggi, se quella che durante il periodo della pop art era definita la dea del rimedio, ovvero la televisione, oggi si è diluita e si è frammentata in infinite forme di comunicazione, anzi, oggi è internet, il padre, dove all'interno poi vivono tutte le sottocategorie comunicative, da lui, protette, da lui generate, da lui plasmate. Ecco, questa è la versione di cui vi parlavo con la dama con l'ermellino e ci vediamo dei simboli, appartenere un po' a tutti, ci vediamo il simbolo dell'anarchia, ci vediamo, no? Questa figura iconica nell'arte, nella produzione storica e viene modificata, viene modificata in maniera ironica, in maniera provocatoria con degli acrilici, degli spray, tutte quelle tecniche, diciamo, contemporanee, moderne che noi, con cui noi familiarizziamo quotidianamente. Andiamo a rivederle, facciamogli un'altra bella panoramica, che a me inizialmente interessa anche che possano vedere tutta la proposta per poi poter scegliere. Quindi troveremo, no? Due serie principali, Art is a disease, che è la prima serie che crea, perché? Perché per Mart l'arte è una vera e propria malattia, quindi una sorta di sentore vivido che pullula sotto pelle e che si fa vivo, tramutandosi poi proprio in, come lui lo definisce, ossessione, chiodo fisso, nella sua arte, nella sua rappresentazione. L'arte è sempre denuncia e testimonianza allo stesso tempo, non esiste osannare completamente quello che è un contesto storico, quella che è una tipica società, un momento, un frammento, una parentesi temporale. C'è sempre la componente di denuncia che coesiste con la componente del celebrare un qualcosa. E un po', dicevo, no? C'è una connotazione pop, non lo si può notare, la voglia di comunicare con dei simboli universali, andare a poi, non in tutte quelle che vedrete esposte oggi, ma lo stesso Mart, cosa fa? Evidenzia proprio la vena pop, perché testimonia le icone della cultura contemporanea in pop, come Andy Warhol, Madonna, John Lennon, ci sono diverse produzioni che noi troveremo nel suo, oltretutto, catalogo che voglio farvi vedere. Giusto per darvi anche un... Eccolo qua. Qui all'interno troviamo tutta la sua spiegazione iniziale e poi, ecco qua, volevo farvi vedere la serie disease, quindi l'arte è una malattia, l'arte nasce dall'anima e poi si traduce in termini espressivi. Eccola qui. ecco, vedete, Janice Doplin, poi abbiamo un Carl Cobain, tutte delle figure un po' anche dannate di un certo tipo di società contemporanea. Tupac, il famosissimo rapper americano, poi abbiamo Morrison Disease, Lennon Disease, Gandhi, vedete tutte le diciamo icone universalmente comprensibili, quindi non si può dire che non ci sia assolutamente una connessione con tutto ciò che è la cultura pop. Poi c'è la serie legata ai classicismi e poi Mark Wall, eccole qua, tra cui e fatalità, cadiamo proprio a pennello in questa che è quella che vede al centro, nel punto focale dell'opera che abbiamo in parete, quindi ci spostiamo proprio in parete per non farla vedere nella versione cartacea ma per farla vedere per scrutarla dal vivo nel nostro set ci spostiamo anche nello sfondo nero come noi lo definiamo nel nostro sergo comune andiamo qua eccola qui e quindi Max falla vedere bene così possono accorgersi di quello che è realmente un effettivo ritaglio di una cornice urbana perché ci si chiede sempre come fa la street art ad essere considerata una tipologia d'arte che io posso anche esporre e contemplare sembrava potesse essere una forma d'arte smaterializzata nel vero senso del termine perché consacrando la vita urbana e collocandosi proprio nei contesti urbani come l'underground come il fatto che tantissimi tra i più importanti in america e non solo anche nel contesto poi londinese street artist hanno iniziato il loro primo approccio come realizzando i wall proprio nei contesti suburbani anche oltretutto perché poi adesso ci rifaremo ad un artista che anche è importantissimo che Rick Prohl che forse qualcuno di voi ha già visto accennato nella trasmissione che poco fa è andata in onda che penso chiaramente fosse una registrazione dedicata all'artista naturalizzato americano che è un artista che piace moltissimo è un artista che ha proprio raccontato con dei tratti quasi espressionisti e anche tragici anche un po' paurosi dopo lo andiamo a vedere abbiamo una delle sue creazioni a disposizione adesso qui nel set e vedete qua ci si concentra nel ritagliare proprio con una coesistono perfettamente a parte le tecniche quindi vedete ci sono i collage ci sono questi poster che vengono strappati vengono incollati e allo stesso tempo il supporto testimonia quello che nella realtà della street art sarebbe il supporto metropolitano quindi il muro il wall come abbiamo detto prima e addirittura come vedete c'è questa testimonianza decadente ok che è per questo dicevo suburbana di questa connessione elettrica con l'interruttore che oltretutto vedete è bruciato è saltato è rotto serve serve proprio a testimoniare un ritaglio di una realtà che entra come dicevo prima ma poi lo vedremo in un altro artista in particolar modo che tratteremo questa sera entra proprio come ritaglio di vita urbana a livello di contemplazione e poi cosa ci sono? ci sono gli stencil ci sono c'è dell'ironia che è tipica di questa tipologia di questa arte che ha una matrice estremamente attuale e quindi come è attuale la denuncia su cosa? sulle tematiche politiche sulle tematiche più intime della società sugli avvenimenti più attuali lo stesso fa un po' la street art perché a tutti gli effetti è la tipologia d'arte l'impronta artistica che più racconta la realtà non filtrata ok se nella pop art la le figure i protagonisti le icone erano delle celebrità che scorrevano all'interno di quella che era la scatola nera la televisione quindi la pop art praticamente estraeva dei frammenti da questa realtà da questo flusso da questo movimento da questo dinamismo che ormai era la vita della società consumistica che si stava appropriando della vita dell'individuo e quindi paradossalmente le comunità come ho detto prima si stavano trasformando in delle società in cui dominava l'individualismo e il produttore diventava consumatore vero e proprio qui in realtà c'è una testimonianza ancora più diretta non filtrata da quella che è la comunicazione di una televisione che ormai oltretutto devo dire come prima già accennavo è stata sostituita e soffocata da altri altre dinamiche digitali e altre dinamiche del web ma è più una testimonianza quotidiana e spontanea ecco questo è importante spontanea e figurativa assieme non intesa chiaramente come un'evoluzione del graffittismo anche perché poi ne parleremo di graffittismo con l'opera che abbiamo di rotella qua in in parete in studio ma come libera espressione di canoni comunicativi prima che estetici comuni e universali prima comunicativi che estetici per questo dico è una tipologia d'arte è una forma un'espressione d'arte molto più diretta e non calibrata come poteva essere la la pittura studiata di natura o che arrivava dall'eredità accademica accademica e a proposito no prima parlavamo di testimoniare per quanto riguardava la corrente pop sì certo Andy Warhol sì certo il contesto americano americano ma noi vogliamo circoscrivere anche anche quello che avveniva nel contesto nostro nazionale con cosa con delle rappresentazioni importantissime a parte questo schifano del 62 che penso sia una delle sue più importanti creazioni ma prima di arrivare a quello ci terrei a mostrare eccoci qua a mostrare a il pubblico cosa una delle ultime realizzazioni di schifano realizzata nell'ultimo decennio chiaramente lui se non erro muore nel 98 quindi dal 90 al 97 c'è questa produzione che testimonia cosa innanzitutto e qua in questo argomento voglio circoscrivermi solo solo a questa produzione in maniera limitata per analizzare cos'è questa produzione perché se dovessimo analizzare chi è Mario Schifano dovremmo dedicarci una settimana come minimo di dirette continue quindi andiamo a parlare di questa produzione di cui vado a recuperare immediatamente due cataloghi fondamentali e poi con Marcello manderò in onda in grafica delle opere che potete confermare subito con Stefano oltretutto se non avete ancora il pdf fatevelo mandare quindi fammi un attimo vedere di nuovo queste tre opere di Mart che io recupero la testimonianza della produzione adesso ci arriviamo subito di Schifano con Stefano con Stefano segnale di Eccoci qua, ci siamo con la connessione regia studio, tutto a posto Max. Allora, innanzitutto questi due importantissimi cataloghi che sto tenendo in mano e che adesso riappoggerò perché pesano almeno la metà di me, però era una testimonianza che io volevo darvi, eccola qua, di questa serie che forse non tutti conoscono che è quella delle fotografie ritoccate. Perché? Perché c'è una cerniera, una sorta di momento di cesura, di passaggio significativo tra cosa? Tra quello che è la pittura di Mario Schifano e quella che è l'ultima produzione. Quindi, quest'ultima produzione dell'ultimo decennio del Novecento, che adesso andremo a vedere in grafica con Marcello, anzi se già iniziamo a andarmene qualcuna, capiamo di cosa stiamo parlando. Eccole qua. Abbiamo detto, no? Fotografie ritoccate. Perché? Perché c'è una sofferenza in realtà che testimonia e funge, no? Da momento di cesura, come dicevo prima, nel passaggio tra quella che è la pittura che poi abbandonerà. Perché? Perché c'è una cosa molto importante, sempre a livello storico, sociologico da sottolineare, che è questa, che l'ingresso della tecnologia, cioè il momento di cambiamento della seconda metà del Novecento, a cui Mario Schifano assiste pienamente, ok? Soprattutto assiste anche con connotazione negativa, nel senso che questo cambiamento per la sua visione interiore d'artista è stato vissuto un po' inizialmente come una resistenza, cioè un voler combattere quello che ormai non dava in realtà alla società la possibilità di scelta, ovvero quello di essere influenzati da dei canoni. tecnologici dopo i quali non si sarebbe più potuti tornare indietro. Quindi lui cosa ha? Ha questa paura di abbandonare quel terreno in cui l'arte e la pittura, nella prima parte poi del Novecento, cotevano ancora di un avanguardismo evidente, che poi pian piano va scemando, va a diluirsi fino alla seconda metà del Novecento, dove oggi noi ci concentreremo con queste opere, in cui invece si celebra l'altra parte di quello che Osborne definiva il secolo breve, dove all'interno, io dico tutt'altro che breve ogni volta, perché così breve ma così ricco di avvenimenti soprattutto decisivi, cambiamenti decisivi. E cosa fa? Lui in questa ricerca, dagli anni Sessanta agli anni Novanta, nonostante si percepisca questa lotta, questa resistenza ad una realtà che non si voleva accettare facilmente, riesce a rendere compatibili le connotazioni della pittura alle immagini e alla materia comunicativa della seconda metà del Novecento senza creare dissonanza. Questo è uno dei, dal mio punto di vista, lati geniali di Mario Schifano. Cioè riuscire a fondere quello che lui stesso rifiutava, quello che lui stesso ripudiava, cioè l'approdare nel mondo in cui la materia da pittorica diventa immagine. Quindi il protagonista dell'arte si sostituisce completamente, non è che evolve, cambia drasticamente. E qua mi permetto di fare un inciso a favore di Schifano. Perché? Perché ci sono stati sicuramente dei significativi cambiamenti nel mondo dell'arte. Pensiamo semplicemente al passaggio nella prima metà del Quattrocento, scusate, con i cambiamenti delle prospettive. Oppure pensiamo all'impressionismo a partire dalla fine dell'Ottocento, che inizialmente, chiaramente, il cambiamento come viene percepito? Come una possibile minaccia, perché non si sa ancora dove andrà a virare l'espressione artistica e non si sa ancora quanto drasticamente potrà cambiare. È più facile accogliere una linea continua che, chiaramente, una strada che cambia direzione. E Mario Schifano? E Mario Schifano cosa fa? Lui vive uno che, dal mio punto di vista, perché, no, i cambiamenti che ho appena detto, o anche, possiamo dire, tra simbolismo e futurismo, ecco, un'altra tipologia di cambiamento drastico, che in questo caso è stato all'inizio del Novecento. Però quelli sono dei passaggi continuativi, dove ciò che arriva, in un certo senso, eleva, aumenta, migliora, arricchisce ciò che c'era. E quindi io lo definisco più continuativo, nonostante sia un cambiamento. Ma il cambiamento a cui ha assistito Mario Schifano, che poi ha tormentato ed alimentato la sua gestualità e il suo abbondante colore, nella prima parte poi, è un cambiamento decisamente più drastico. La tecnologia, la fotografia e questa serie, ecco, ora la vediamo nella grafica proprio accanto, produzione per produzione, poi chiedete a Stefano prezzi, anni, anzi, di queste in realtà posso anche dirle, mi sa. Sì, perché sono quelli in lista, giusto? Quindi, tutte quelle che voi vedrete della serie, dal 90 al 97, 13 per 18, oltretutto, quindi con una produzione che per dimensione è standard, a 900 euro. Pubblicate, tutte. Allora, io, giustamente, vi faccio vedere tutto. Queste sono le autentiche che provengono dall'archivio di Mario Schifano, ok? E, esatto, questi sono i cataloghi, perché vedete c'è il 2, che vi faccio vedere proprio il suo profilo, vedete che è numerato, e poi c'è l'1, quindi è un doppio catalogo, ricchissimo, perché vedete anche voi la foliazione è veramente ampia, e qui ci sono le autentiche, vedete, certificato di autentica archiviazione, quindi non c'è niente che non debba portarvi a 900 euro, dato che un'autentica come quella, io sono sempre molto trasparente, che mi sa che quello sa, costa 350 euro. Quindi, insomma, in cosa consiste questa produzione? Che io trovo del tutto affascinante, perché? 5, 6, 7 pezzi. Sono 7 pezzi, perché il resto le abbiamo già vendute tutte. Sì, li stavo un attimo contando, perché nella lista vanno dal 32 al 39, poco di più, 8, 9 pezzi, pazzesco. E gli altri sono già andati tutti venduti, quindi approfittatene per farvi spedire il PDF, dove oltretutto le potete vedere non solo nel prezzo, nella descrizione, nelle misure, nella proposta, ma proprio visivamente nel file in PDF, dove abbiamo tutte le... pezzi unici, che testimoniano e rappresentano cosa? Sarà che io amo anche l'espressione un po' velatamente malinconica o tormentata, e sicuramente questa parentesi, questa rappresentazione di Manuel Schifano un po' lo è. Perché, come dicevo prima, mantiene il contrasto tra l'allontanamento dalla pittura, quindi un cambiamento drastico, ok, rispetto ai cambiamenti che antecedevano il suo periodo, la sua società, il suo irrompressi della tecnologia e di questi nuovi mostri, ecco, tra virgolette. E allo stesso tempo lui cosa fa? Con delle grafiche, con degli acrilici, con degli smalti, va a delineare, evidenziare, coprire delle zone. No, lo stiamo guardando assieme proprio in questo momento, facendo cosa? Facendo quello che, un po' per rifiuto, alla fine, in maniera un po' contraddittoria, lui fa. Cioè, nel suo studio, e a casa sua, si chiude all'interno di una stanza, sommerso da televisori, accesi, continuamente, anche di notte, senza mai spegnerli. E perché? E nel frattempo facciamo vedere queste grafiche. Perché la televisione è il cambiamento che lui accoglie nella sua società e che dimostra cosa? Il movimento. L'arte non è più en plein air, come lo si può definire nella prima parte del Novecento. I pittori, ok, i nuovi pittori della seconda metà del Novecento, fotografano, immortalano, ritagliano. Quello che, attraverso il filtro mediatico, che ormai irrompe e si rende protagonista di una società, e lui cosa faceva? Si rinchiudeva in questa stanza, in questo studio, lavorava e continuamente questo flusso andava. Esattamente, proprio come testimonianza di quello che è tuttora, tuttora, quindi parliamo di attualità, anche in Mario Schifano, che opera in periodi differenti e in decenni differenti rispetto ad esempio alla street art di cui abbiamo parlato poco fa, che è completamente contemporanea e attuale. E nel momento in cui qualcosa lo persuade, qualcosa lo affascina, qualcosa attira la propria attenzione, la sua attenzione, lo fotografa, ma lo fotografa anche in maniera molto, tra virgolette, rovinato, in maniera sporca, perché non sta neanche attento a quella che è l'inquadratura, la grafica e tutto il resto. E poi, come testimonianza principale, quindi c'è la fotografia, che contribuisce a cambiare completamente i canoni tecnici, proprio nel vero senso della parola, della seconda metà del Novecento, e cosa fa? Va comunque a apportare a questa fotografia, su questa fotografia, che sono tutti pezzi unici, tutti pezzi unici, la propria eredità pittorica, che ancora non vuole darsi per vinto, quindi smalti, acrilici. Ci sono delle opere in cui interviene per cancellare, altre in cui per evidenziare, altre per creare visivamente, con l'abbondanza del colore dello smalto, quale fosse il punto fucale, quindi il protagonista, della fotografia in questione. io, a novecento euro, pubblicata, il catalogo che ve li ho mostrato, tutti i pezzi unici, interamente, quindi, esemplari come si suol dire, lui ferma ciò che si muove, che questa è un po' la filosofia di chi si trova ad operare nella seconda metà del Novecento, dove tutto scorre, l'artista deve bloccare e fermare ciò che si muove, e lo fa in infiniti fotogrammi, che lui traduce anche in non emozioni, e arricchisce con gli interventi su immagini. La TV si celebra e viene denunciata come cosa? Come l'unico esemplare. La 38. Non più disponibile la 38, che viene confermata, quindi io lo dico pubblicamente, in modo tale che gli altri sappiano che una è già stata praticamente cancellata dalla nostra lista, è già in conferma, ma rivediamole, continuiamo un attimo a farle scorrere, perché questa è una produzione che deve essere collezionata, questa è una produzione che non può essere tralasciata, perché è l'ultima. Ma appunto, ma poi, ma poi, Mario Schifano, che per quanto, vedete, sarà che io mi affeziono alle personalità particolari e che non vanno automaticamente, tra virgolette, a genio, in maniera molto diretta, a tutti, ma, sì, vediamo se, esatto, facciamo vedere me con accanto le opere che scorrono, vediamo se facciamo questa grafica, scusate un attimo l'interruzione, eccoci qua, allora, un artista, no, dove genio e male convivono, perché alla fine la vita di Mario Schifano è stata un continuo tormento, anche un continuo entrare vicino da delle situazioni di carceri, dalle situazioni particolari, e è sempre stata quella personalità che, come le personalità forse più geniali, fanno fatica spesso ad essere comprese, o usannate, o apprezzate, invece sono le personalità che, ad esempio, io apprezzo di più. Forse le trovo più autentiche anche nel loro essere dannatamente autentiche, cioè contro l'opinione della massa o della nicchia, in questo senso, no? E, a 900 euro, con, in omaggio, il catalogo, con la pubblicazione, che, chiaramente, poi vi verrà consegnato assieme all'opera gratuitamente, e, il certificato, l'expertise, l'autentica, dall'archivio, Mario Schifano. Quindi, il pack, cioè il pacchetto completo, come si suol dire oggi, io lo trovo, alla proposta, che trovate in lista, di 900 euro, esattamente come, la proposta, sullo stesso piano, delle serigrafie, di Sunday B morning, di Andy Warhol. Cioè, neanche rifletterci. Vediamo il capolavoro del 62, facciamo un attimo. Ma, subito, vediamo il capolavoro del 62, che è quello che, si tira fuori e anticipa e rientra nella prima fase dello Schifano, e quindi, non nel decennio degli anni 90. Andiamo a vedere quel monocromo del 62, per favore, Max. Ecco. Smalto su carta, le misure, le vedete, 100 per 70. vediamo di mettere il nostro pannello, in modo tale che anche la ripresa possa esprimersi al meglio, perché, vedete, con tutte queste luci, questi fari, ecco, spesso, chiaramente, i riflessi intervengono e il filtro televisivo. Io lo dico sempre, l'opera dal vivo è, l'opera dal vivo, ecco, rompe l'inganno, quindi, si esaspera in tutta la sua bellezza. il filtro televisivo scema, scompare e questo è un Mario Schifano che si toglie completamente da quello a cui, nell'immaginario comune, la maggioranza andrebbe a pensare in riferimento a Mario Schifano. Quindi, un artista che in un periodo testimonia nelle proprie opere un gesto repentino, dinamico, irruento, sfuggente, dove il colore strasborda dalla tela, dall'opera, fuoriesce, riempie visivamente ed interamente il campo d'azione. Quindi, provate ad immaginare con un accostamento tra produzione Mario Schifano, immaginario collettivo, produzione Mario Schifano, monocromo, con un ritaglio quadrangolare collocato più o meno nella posizione focale, centrale di questa produzione di, e andiamo a rivedere, mi pare, 100 per 70, ok, che chiaramente aumenta di valore, che chiaramente cosa significa? Di conseguenza, fa anche riferimento a una fascia differente di collezionismo. Quello che si può assolutamente sottolineare all'interno del sistema dell'arte è che questa industria, perché è a tutti gli effetti un'industria e è inutile ed è ipocrita come atteggiamento nascondere che il mondo dell'arte, il sistema, scusate, dell'arte sia un'industria. Perché gli stessi artisti pop e gli stessi street artist cosa hanno fatto? Hanno voluto creare un'industria che smontasse una precedente industria, ma il mondo dell'arte è un'industria che molte volte viene fatta prevalere in termini commerciali dove spesso non c'è differenza tra un titolo azionario e un dipinto, ok, ma questo accade in realtà in un momento storico, culturale e artistico differente dopo la creazione di questo schifano del 62. Quindi io dico sempre che c'è una distinzione tra una produzione che ancora è realizzata, diffusa e apprezzata all'interno del mondo di quelli che ancora oggi nonostante il cambiamento delle concezioni dell'industria artistica vengono definiti gli artisti autentici che a tutto tondo hanno segnato un cambiamento stilistico e una denuncia stilistica e poi si passa alla seconda fascia che è la diciamo la parentesi temporale adiacente alla fine dello scorso secolo che per forza viene cullata e influenzata da un altro mondo dell'arte che è diventato un mondo dove contano magari più gli affari di investimento fatti per avere dei vantaggi e raggiungere dei plus valori o no? Non penso di sbagliarmi in questa visione molto sintetica quanto comunque esaustiva quindi un'opera che rientra in un contesto non ancora influenzata dalla dinamica che vede l'opera fondersi con un titolo azionario nel vero senso della parola chiaramente mantiene preserva un valore artistico che di conseguenza si traduce in cosa? in una proposta che voi vedrete nella lista che è sicuramente più elevata dalla fotografia chiaramente ritoccata qui si parla di uno dei primi capolavori ma proprio perché preserva l'autenticità della prima fase di Schifano è differente ma allo stesso tempo non è storpiata da quelle che sono le quotazioni elitarie di un sistema che si innesca dopo quest'opera quindi per chi avesse richiesto questo capolavoro valuti molto bene la condizione vantaggiosa di avere il valore artistico non ancora inquinato dall'impossibilità di aggiudicazione dell'opera perché rientra assolutamente in una proposta che ha il valore di proposta economica che coincide col valore artistico di questa creazione del 62 di Mario Schifano non ci sono proposte ridicole non ci sono pressioni influenzate dalla cosiddetta filosofia che se costa vuol dire che vale perché purtroppo è una filosofia anzi per fortuna a chi punterà su questo Schifano è una filosofia che è subentrata a posteriori cioè quindi dopo e questa chiaramente vabbè neanche neanche ve lo devo sottolineare amici che è altrettanto fornita di expertise tutto quello che ci sta dietro Stefano è al centralino Stefano sta già gestendo l'interessamento le richieste quindi rivolgetevi a lui per tutto quello che riguarda la seconda fase di conferma non so se notate ma vedete possiamo già fare un paragone no? due esponenti pop Schifano Warhol su due opere trattate serigrafia Marilyn e quest'opera fenomenale perché fuori standard dell'immaginario collettivo che noi riferiamo a Schifano ok quindi un capolavoro nel vero senso della parola un esemplare del 62 facciamo il paragone no? tra le due personalità che abbiamo scelto di inserire in questa trasmissione dedicata alla pop art e alla street art serigrafia post prodotta anni 80 dalla Sunday morning in cui Andy Warhol nel momento in cui eccola qua gli ricapitava tra le mani nei suoi viaggi nei suoi contatti europei addirittura la sconsacrava rendendola e qui sta lui genio li va riconosciuto rendendola ancora più originale scrivendo dietro this is not by me e apportando una firma e poi la Sunday morning che ormai aveva brevettato grazie alla spiegazione e ad Andy Warhol che aveva fornito tutti gli strumenti per farli riprodurre esattamente negli stessi colori e con lo stesso procedimento la Marilyn come quella che realizzava lui nel 67 nella prima edizione ok battuta due anni fa a 68 mila euro ok io non sto facendo dei paragoni per esaltare uno dei due artisti rispetto all'altro tutt'altro ma vi sto cercando di fare questo paragone per cosa? per andare oltre l'artista e farvi capire che erano già diverse le società seppur a distanza di dieci anni che accoglievano le proposte perché cosa ha in meno uno schifano del 62 o cosa ha di diverso lo schifano del 62 alla proposta che scoprite con Stefano al centralino dalla serigrafia degli anni 80 che è stata battuta con il timbro e la firma dietro a 60 mila euro due anni fa e alle serigrafie che tuttora valgono qualche migliaio di euro cosa hanno di differenza la società che le ha accolte un momento differente che le ha pronunciate al mondo e guardate quanto poco basta un decennio d'anticipo per trovarsi già in un mondo differente molti pensavano che Andy Warhol avesse già rappresentato la parabola massima di quella che potesse essere la testimonianza più assoluta del cambiamento dell'evoluzione pop ma non è assolutamente così oggi il mondo è ancora pop e forse lo è ancora più di quanto lo fosse in quegli anni perché oggi si comunica per stereotipi per simboli per significati comuni quest'opera di Schifano casomai può avere qualcosa in più ovvero una società non ancora del tutto sport o un sistema dell'arte che non era ancora diventato il financial art come io l'ho definito prima ma che era un mercato dell'arte ancora diverso il prezzo è coerente al capolavoro che avete di fronte non perché quello che costa allora vale perché quanto costa è coerente a quello che vale questo Schifano che è comunque un gran pezzo per un grande collezionista sicuramente mi aspetto che è la richiesta sia arrivata si sia pronunciata che l'interessamento sia nato da una persona da un collezionista da un amante dell'arte che questo già a priori lo comprende questo già a priori lo vede in questo Schifano fammelo rivedere l'ultima volta visto le richieste e poi andiamo a vedere anche altri artisti in tutto questo archivio della fondazione Mario Schifano ve lo ridico perché già prima ve lo accennavo ma ve lo dico proprio a gran voce quindi e poi no ci sono degli vedete vedete no soprattutto nella pop art dalla pop art in poi cosa succede che si identifica ed è quasi ed è quasi ironico quando in realtà il processo nonostante a me faccia magari sorridere a noi tutti possa far sorridere in realtà ha delle radici molto profonde di matrice sociologica come dicevamo prima dalla pop art in poi gli artisti si riconoscono per quello di quello del quando si pensa a Schifano perché tutti dicono quello delle palme perché quando si pensa a Andy Warhol tutti dicono quello di di Marilyn quello delle 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 zuppe Campbell perché in realtà noi non stiamo non stiamo riconoscendo solo un tipo di artista ma un tipo di società cioè capite che le due cose non vanno solo di pari passo ma ci sono momenti in cui la società scavalca e si esprime ancora prima dell'artista iconismo rappresentativo stupendo ma stupendo e questo ne è ancora privo è fuori da quel rimando comune iconismo rappresentativo che si potrebbe avere su uno Schifano perché questo è lo Schifano che ha una persona che sceglie in maniera raffinata allo stesso tempo però perché in termini eterogenei e non solo da chi tratta l'arte per venderla ma anche per chi la colleziona perché vive quotidianamente quello che è il collezionismo dell'arte mi sento assolutamente di dirvi che le migliori collezioni sono quelle complete sono quelle eterogenee e soprattutto mi sento di dirvi che non esiste un periodo di un artista che vale meno di un altro periodo si tende spesso a agire per stereotipo mentale credendo che il primo periodo di un artista è sempre quello più energico quello più ricco e poi tutto tramonta tutto si sciupa in realtà no perché testimoniano semplicemente dei sentimenti e delle emozioni autentiche allo stesso modo indipendentemente dal periodo che chiaramente evolvono per la loro stessa natura quindi come vale questo schifano come valgono le palme perché è lui come artista autentico che vale a 900 euro valgono assolutamente quei fotoritocchi pezzi unici esemplari che vi vengono consegnati con autentica dell'archivio e catalogo semplicemente bisogna fare quello che Kierkegaard diceva e che è ancora anzi forse oggi è ancora più difficile che nella sua società e nella sua teoria filosofica espressa con lungimiranza saper scegliere saper scegliere saper scegliere è fondamentale ma rappresenta sempre la cosa più complessa e quello che mi permetto di dirvi ulteriormente mi espongo maggiormente ok concentrare il sacrificio in un'opera d'arte quando chiaramente la proposta si fa di spessore superiore come in questo caso rispetto parlo sempre tra schifano e schifano e io non paragono artista con un'artista differente paragono questo schifano con i foto e i tocchi perché? perché appartengono a due momenti differenti a due società che danno valore a delle circostanze e a degli elementi differenti perché quando inizia a smaterializzarsi la società quando l'artista vuole per scelta commercializzare quello che è un ritaglio un fermare il continuo cambiamento una continua evoluzione quindi parlo delle produzioni degli anni 90 è chiaramente più coerente che il prezzo sia differente perché? perché non è un prezzo ipocrita ma è un prezzo che in maniera trasparente dimostra cosa quell'opera vuole comunicare quest'opera invece fa parte di un altro periodo espressivo che ha alle spalle un altro terreno in cui l'artista era valorizzato e valorizzava altre dimensioni al di fuori da quella fotografica che chiaramente subentra in linea di tempo successivamente e quindi questo rientra nello schifano pittorico l'altro rientra nello schifano che per la sua grandezza non si limita a restare esclusivamente pittorico ma umilmente perché la grandezza coincide con l'umiltà si adopera senza filtri senza grandi parabole a fare anche quello che dieci anni dopo vent'anni dopo trae da una società diversa è un artista contemporaneo che non esclude la propria contemporaneità e comunque è uno dei più grandi artisti dello scorso secolo quindi se una persona sa anzi sceglie come ho detto prima no saper scegliere sceglie quest'opera sceglie lo schifano e il delit proprio perché non è già dentro l'arte elitaria che esclude ma è dentro l'arte elitaria che ancora dà la possibilità dell'inclusione no dell'esclusione perché questo è un prezzo che dà la possibilità all'inclusione non è un prezzo elitario che esclude ve lo assicuro per questo dovete chiederlo al centralino rifletteteci ma non troppo come si dovrebbe sempre fare con l'opera d'arte che per sua natura ci insegna da sola senza le nostre cornici senza le nostre parole senza le nostre parabole che si agisce anche e soprattutto per emozione iniziale di fronte all'opera poi dopo questa questo capolavoro assoluto che è il 16 nella lista che Stefano mi manda al centralino su richiesta assolutamente non esitate ci sono state anche delle domande differenti riguardo anche gli altri artisti che chiaramente che ha già visto la lista in pdf ha già potuto vedere e questo estermalangolo andiamo a presentare subito perché si estrae si dissocia un attimo dai due contesti quindi smorziamo un attimo questo schifano meraviglioso questo capolavoro assoluto e voglio darvi un attimo la riflessione al centralino con Stefano per capire di confermarlo con autentica dell'archivio e con prezzo che ancora rispecchia un valore che non viene osannato da un procedimento meramente commerciale o superficiale di un'arte che cambia dopo quel quadro e andiamo a vedere questo estermalango perché qui c'è tradizione e soprattutto c'è l'arte delle donne c'è l'arte che abbiamo inserito questa sera come testimonianza di una delle più grandi artiste africane che attualmente sono in commercio quindi innanzitutto da cosa nasce questa disposizione vedete puntuale algebrica senza sbavature ricca comunque di una vivacità e una geometricità evidenti queste linee nere che sono un tratto fondamentale che lei stessa realizza con i pennelli che crea con delle piume con la parte solida della cartinagine finale delle piume e traccia con questa mano ferma per inizialmente perché questo è il primo processo quindi ci adattiamo anche proprio alla descrizione tecnica di come realizza queste opere prima c'è questo tracciato nero su bianco e quindi si genera un po' lo scheletro algebrico iniziale e poi queste campiture regolari di colore che con questi colori vivi pieni non diluiti riempiono la trama la traccia che inizialmente è scelto e da cosa derivano? La testimonianza di una tradizione la tradizione che nel suo villaggio viene tramandata prevede che le donne debbano dipingere tutte le pareti anche esterne della propria abitazione della propria casa nel proprio villaggio con queste decorazioni tant'è che quando Esther Malango è stata ospite qui da Arte Network abbiamo voluto proprio accoglierla come? Ricreando con dei pannelli meravigliosi tra cui alcuni sono ancora disponibili io chiederei a Stefano in caso di poterli vedere o di poterne sapere poi la proposta abbiamo ricreato esattamente quella che è l'espressione da cui nasce la sua arte quindi la tradizione africana del suo villaggio è arrivata qua e si è chiaramente commossa rimasta si è sentita onorata di questo tributo che in realtà dimostrava proprio il nostro onore nel poterla accogliere nelle sue vesti tradizionali nella sua purezza dobbiamo avere anche dei frammenti di interviste eccola qua e la foto bravissimo Marcello che vedete l'artista stessa come capita a volte e come è capitato anche con Rick Prohl infatti dopo andremo a vedere e parleremo anche di Rick Prohl ha realizzato durante il periodo in cui è stata qui in Italia da noi delle opere che le realizzate proprio dal vivo qui in azienda una serie limitata chiaramente e io consiglio sempre che se si deve puntare su un artista eccola qui all'opera lo si può fare meglio quando lo si può fare puntando e orientando la propria scelta su un qualcosa di più esclusivo in questo caso l'esclusività sta nel fatto che c'è una serie limitata che come tutte le produzioni limitate o legate ad un particolare evento acquisiranno sicuramente un valore aggiunto e io intanto ve le mostro ve le faccio vedere così cerchiamo di esaudire un po' tutto quello che è nel set di esaudito Grazie a tutti. Perché anche se voi direte in maniera molto accennata io tengo tutto un menabò dove ordino ogni sagrosanta nozione delle nostre trasmissioni e quindi ho qua proprio tutta la produzione delle opere di Rick Prohl che abbiamo a disposizione con quelle già vendute segnate. Quindi insomma possiamo veramente anche rimostrare lo scenario più completo per quanto riguarda questo artista naturalizzato americano che io trovo fantastico perché innanzitutto è l'ultimo assistente di Basquiat che è stato un genio dello scorso secolo, che è stato un artista incredibile e parliamo un attimo del suo retrosceno storico perché siamo negli anni 70 e 80 e diamo sempre una sorta di terreno per capire, no bisogna capire per forza dove l'artista attinge e di conseguenza cosa tramanda. Eccoci qua. Allora, anni 70 e 80, quindi cosa succedeva? Reagan stava per imporre la sua politica economica e spianava completamente le strade alle nuove generazioni di eccessi consumistici. Questa è un po' la cornice di quello che assolutamente avviene e avviene anche quello che avviene esattamente con The Factory di Warhol perché c'è questo luogo cruciale che nel caso di Rick Prohl diventa New York, in Città Boimien, ruolo cruciale di artisti che sono più o meno chiaramente fortunati che poi avrebbero segnato inizialmente inconsapevolmente, poi con consapevolezza, l'esistenza di questo cambiamento storico. Un luogo che è un periodo che tanti di noi sicuramente avrebbero nel mio caso voluto vivere e che tanti di voi hanno avuto anche la fortuna di vivere questa realtà. E no, ci sono questa serie di artisti considerati di frontiera che abitano l'ambiente dell'East Side e South Bronx, quindi l'ambiente più degenerato dove si assisteva quotidianamente negli scenari e negli scorci urbani alle scene di spazio, droga, prostitute, e questa era la realtà. Nei locali dove poi convivevano artisti, geni, musicisti, dove la musica anche sicuramente ha influito in maniera notevole e da quegli ambienti, compreso Keith Haring della Neopop, nasce e si evolve quello che poi è il concetto che l'arte è per tutti, che l'arte si avvicina ad un concetto di democraticità nel senso di comprensibile a tutti grazie ad una comunicazione che è immediata, data da forme semplici, delineate da contorni neri come in questo caso, facilmente riconoscibili e qua mi piace perché c'è quel lato misto espressionista, surrealista, che è tipico di Prohl, che è tipico di Prohl, che oggi è proposto a questa cifra, che è del tutto, del tutto favorevole a voi, ve lo assicuro, chiedetela a Stefano, e che lui testimonia questa cultura di strada con, e questa musica, e queste diciamo costanti perenni della società in cui lui vive, degli ambienti in cui vive e allo stesso tempo si autoritrae perché queste visioni surrealiste di se stesso, di questi animali, poi c'è anche il cavallo, c'è in questo caso questa figura surreale con la testa del gatto e poi tutti i tentacoli della piovra, che rappresentano una visione un po' stravagante e, come ho detto, surreale di se stesso, di se stesso quando soffriva di insonnia e quando era preso dall'impossibilità in un momento della sua produzione artistica nel riuscire a realizzare, e quindi a realizzare delle opere, quindi si dipinge con questi occhi rossi, con questa materia. Io i Rig Prohl non li tocco più perché quando l'ho toccato ho battezzato il primo volo della mia vita di un'opera, che ovviamente è rimasta intanto per fortuna, ma non si mai dire mai, quindi non mi avvicino. Però, se si avvicina a Max, vi fa notare che la materia è invadente, cioè guardate lo spessore, le tonalità piene, la materia che in alcuni punti si inspessisce rispetto ad altri, in maniera anche molto espressionista, con questo tratto quasi pauroso, chiaramente delineato da questi contorni neri. E ne parlavo anche l'altro giorno con dei colleghi. Rig Prohl è una grandissima eredità di quel periodo artistico degli anni 70 e 80, di quella schiera e di quella fascia di artisti che hanno per sempre sigillato il concetto di sintesi artistica tra musica, performance, installazioni, poesia, teatro. Perché noi non dobbiamo guardare all'opera in sé solo nei suoi tratti estetici? Anche se chiaramente poi alla fine quelli sono quelli che inizialmente ci attraggono, ma noi dobbiamo anche acquistare l'opera per quello che si cela alle spalle, altrimenti non sosterebbe e non starebbe in piedi neanche il discorso che ho fatto su Schifano, capite? Anzi, tra poco ci torniamo su quello Schifano. Perché la cosa più assurda, nonostante anche delle altre opere eccezionali di grandissimi artisti sezionati oggi abbiano delle proposte più... Questo confermato? Perfetto, quindi questo lo stacchiamo. Anzi, adesso viene Stefano, lo stacca lui personalmente. Anni 90 questo. La visione... E chiaramente cosa ci abbiamo accostato allo Schifano? Il suo grande amico. Eccolo qua, su grande richiesta. Giustamente, ma mi fanno piacere queste richieste. Franco Angeli, Mario Schifano. Uno accanto all'altro. Questo di ampio respiro con queste... con questa traduzione verticale dello spazio, no? Che tra colore alternato ad assenza di colore, delineano un'opera di... dimensioni? Perché abbiamo detto ampio respiro e qua si nota immediatamente... Un metro e sessanta per un metro e trenta. Il titolo? Impronta. Allora, siamo di fronte a due tra le opere più importanti, selezionate nel... Eccolo qua, impronte, smalti su tela. 87-88. 160 per 130. Questo e lo Schifano dovrebbero essere le due opere da contendersi, ma non sto scherzando, con gli artigli al centralino. Particolarmente. E lo dico sempre, non per screditare le altre scelte da queste che in questo particolare momento sto evidenziando. Ma per orientare chi colleziona arte, chiaramente e giustamente anche in termini di investimento, su quelli che sono due investimenti certi. Ci sono opere con delle proposte che, seppur mantengano un'importanza, hanno delle proposte che ci permettono e vi concedono anche la bellezza, grazie a Dio, di acquistare anche per istinto estetico, quindi per un piacere visivo. E poi ci sono opere che nascondono, segnano, traducono un particolare momento storico, un particolare cambiamento, che hanno, chiaramente, all'interno del pacchetto dell'investimento, di più. Questo assolutamente lo sottolineo. Come l'ho detto prima, per lo schifano vale per questo. Grazie. 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 Di Schifano si parla di una delle prime produzioni, chiaramente, dell'opera, e canto si parla di uno degli ultimi periodi. Ma non dobbiamo escludere questo Rotella perché dobbiamo mostrare anche questa grande opera che non casualmente è stata posta nella parete dedicata ai periodi insomma meno recenti, della produzione meno recenti e anche qua di chi parliamo? Parliamo di un genio dello scorso secolo, lui nel suo studio, nel suo seminterrato, cosa faceva? Raccoglieva testimonianze di realtà perché lui è stato uno tra i primi a recarsi nella realtà cittadina, urbana, a strappare, ad appropriarsi, a far proprie quelle che erano le testimonianze di cosa? Dei poster, delle locandine cinematografiche, di tutto quello che l'ha portato ad essere l'inventore del décollage, cioè di una tecnica che se fosse realizzata in materia letteraria noi potremmo definire un neologismo, lui lo applica con un'innovazione espressiva. Che è il suo décollage? A partire dal 1958, décollage figurativo. Guardate infatti la sovrapposizione perché quando parliamo di collage abbiamo trattato assieme anche, giusto per fare anche dei riferimenti su diversi momenti storici, su diverse parentesi e società, abbiamo trattato anche Giri Collar che possiamo dire essere uno dei più importanti artisti nell'aver sperimentato, coniato tecniche e definizioni nuove di collage, il prolage, tutte quelle tecniche che abbiamo analizzato assieme, meravigliose, altro grandissimo artista. E in questo caso abbiamo la tecnica della sovrapposizione, cioè alla base di ogni lacerazione che lui compie per strappare questi poster, per strappare questi frammenti pop di realtà, di informazione, misto celebrazione, ok? Vediamo che non c'è mai uno strato scoperto, non c'è mai, uh che capolavoro dopo ci torniamo, non c'è mai un ambiente scoperto, non c'è nessun respiro che non abbia il supporto di un altro sfondo nel collage, quindi vedete è a tutti gli effetti una sovrapposizione, poi guardate che bello, mi piace un sacco che si stenda verticalmente proprio come le locandine, non a caso. E cosa troviamo all'interno di questa testimonianza di rotella? Innanzitutto troviamo come il futurismo dinamico abbia sicuramente, il futurismo che si declina nella sua variante dinamica, nel periodo più dinamico, si sia fatto sentire anche successivamente con un richiamo artistico e sia come lui però, cosa fa? Alleggerisce per pulire dal troppo e rende l'opera sicuramente più facilmente indagabile, più pulita, più essenziale, pur chiaramente testimoniando quello che ho detto, questo aggancio e questo riflesso di un futurismo dinamico, nonostante lui si colloca nel nuovo realismo. Poi prosegue la sua ricerca astratta, che meraviglia, con questi manifesti pubblicitari, anche manifesti di una serie di cinicità, è una serie importantissima che lui crea con tutti i volti dei personaggi del cinema, tra cui l'iconica Marilyn, inoltre tutto che vedete è stata una icona di stile, e dal 61, da quando viene invitato ad aderire al movimento del nuovo realismo, inizia ad essere, vedete, uno degli artisti che prende in mano le redini e del movimento e a portarlo avanti, come maggiore esponente, fantastico, come paradossalmente si riesca a rendere un collage pulito, cioè, e poi si vede anche questa nota successiva in cui dagli anni 80 in poi si ispira al graffittismo e si vede anche la nota che negli anni 60 lui conosce esponenti importantissimi nei suoi viaggi oltre 10 anni in America, tra cui Andy Warhol. Quanto mi dicono che manca dalla regia 10 minuti? E 10 minuti li concentreremo. Ah, ecco, vedete, lo stesso principio che vale. Mi piace questo contrasto. Differenti periodi di stessi artisti. Che si vede, si vede la nostra filosofia, sostanzialmente. Eccolo qua, vediamo se spostando il pannello nero gentilmente riusciamo anche ad eliminare tutti i riflessi. Che spettacolo. Questo invece è del 58. Quando è il primo approccio a quella che è stata il motivo fondamentale, ecco, questo lo possiamo affermare, l'avvenimento fondamentale che ha comunque segnato l'importanza che poi verrà alimentata, verrà nutrita, evolverà in forme diverse, di Mimmo Rotella. Cioè, quest'opera coincide, questo decollage firmato, chiaramente, autenticato e tutto, coincide perfettamente pubblicato a catalogo generale. Ma attenzione, perché io questo lo definisco un'opera di nicchia, come lo schifano del 62. Forse queste due sono quelle che accosterei e accomunerei di più con questa concezione di opera di nicchia. Perché questa del 58 è realizzata nell'anno in cui Mimmo Rotella si consacra al mondo dell'arte come inventore del decollage. Quindi questa è l'opera che più di tutte celebra l'artista. C'è sempre una versione autentica e una versione in evoluzione. E lo stesso accade in altri contesti artistici come nelle arti applicate. Spesso, anche nel venerdì, quando trattiamo i grandi designer del vetro di Murano, vi sembrerà non centrare. Invece centra assolutamente la versione autentica è quella realizzata, chiaramente, nell'anno in cui un artista, un designer, ha consacrato un modello o una produzione che poi è diventata iconica, che lo ha reso noto nel mondo, che ha celebrato la propria invenzione nel mondo. Ecco, questa è la produzione che ha celebrato Rotella a livello internazionale come inventore del decollage. Quindi questa è la miglior versione su cui possiate puntare oggi. Queste sono le classiche scelte di nicchia all'interno di collezioni molto più vaste. Ma questo è un tassello fondamentale per arricchire una collezione eterogenea. Questo è il pezzo che fa la differenza in una collezione. Ecco, questa è la giusta definizione. Questo è il pezzo che fa la differenza in una collezione. Perché ci sono produzioni più commerciali di ogni artista. Ogni artista ha avuto il momento di incipit, il momento iniziale, il momento in cui inizia ad approcciarsi alle proprie fasi di sperimentazione. Poi ha avuto un momento di transizione, tanti artisti hanno avuto dei momenti di crisi artistica, poi lo hanno ripreso e magari hanno anche raggiunto subito dopo il momento di maturità che poi viene celebrato e consacrato come il momento tendenzialmente più alto di sperimentazione di rivoluzione artistica. Ecco, questa è l'opera che consacra a 360 gradi l'arte di Mimmo Rotella. pubblicato a catalogo generale e realizzato nell'anno in cui si presenta al mondo come inventore di una tecnica che farà propria. Cioè, io penso che per un collezionista questa sia libidine. Cioè, sia vera e propria libidine. Perché non c'è una caratteristica di quest'opera che escluda dall'essere dall'esserla confermata. Queste sono le opere che vi deve dare soddisfazione e confermare. E per fortuna esiste l'arte che da sempre ci insegna come conservare e preservare un investimento. perché noi non stiamo spendendo questo bisognerebbe sempre veramente di fronte a un'opera come questa o all'altro schifano che dopo vi facciamo rivedere. Noi non gli stiamo spendendo i soldi in quest'opera noi li stiamo investendo che sono due termini completamente estranei l'uno all'altro. estranei l'uno all'altro. Capite perché non bisogna dirsi di no di fronte a due opere come queste? Perché tra avere il denaro di investimento e riporlo in un'opera e soprattutto nell'unico contesto di investimento che è l'arte che oltre al valore economico che frutta nel tempo ci dà il privilegio della contemplazione estetica scusatemi ma tra in tasca e qua li preferisco qua umanamente anche con un ragionamento di tipo logico che astrae da tante parabole complicate ed esasperate che sembrano incomprensibili anzi l'arte non deve essere incomprensibile il fatto che voi possiate riporre un investimento economico e fruire anche di un elemento di contemplazione scusatemi ma fatelo su una di queste due fatelo su una di queste due e se uno può perché io dico sempre bene per chi può su tutte e due su tutte e due perché non è che una esclude l'altra sono due personalità che per i motivi che abbiamo sottolineato in questa diretta fanno sì che Schifano e Rotella siano due dei più grandi artisti dello scluso secolo cioè fammi rivedere questo Schifano perché io non ci credo non ci credo che ci siano collezionisti che abbiano già uno Schifano come questo ci credo che ci siano collezionisti che abbiano una palma ne conosco diversi che abbiano altre produzioni inerenti a Schifano ma non ho mai conosciuto un collezionista con uno Schifano come questo perché la monocromia in Schifano ok è la rarità rappresenta la rarità di un percorso evolutivo di un artista che dalla pittura ha subito l'abbandono di un approccio all'arte e si è ridimensionato in una società differente da cui non solo si è fatto accogliere ma alla fine con umiltà è riuscito con il genio che è sempre stato e sempre sarà a testimoniare con la sua impronta impossibile da confondere ma questo Schifano questo non è nello Schifano commerciale non è nello Schifano che hanno gli altri quando si punta su un'opera d'arte tanto meglio se si ha la possibilità di puntare su un'opera che sia unicamente i grandi collezionisti ce ne sono tanti tra di voi cosa vogliono? vogliono l'opera in anteprima vogliono l'opera per se stessi non vogliono neanche che l'opera venga mostrata perché questa è la vera intimità tra collezionista e opera d'arte e questo è il collante legame che spingerà perché me lo auguro davvero uno di voi a collezionare questo questa produzione di Schifano quella più rara da trovare anche nei più grandi collezionisti e per questo ci vuole una scelta di nicchia lo stesso vale per questo rotella del 58 dell'anno in cui tutti i cataloghi del mondo lo celebrano come l'inventore del decollage quindi capite che per questo supporto critico per questo supporto artistico per questo cambiamento momento di cesura che questi due artisti hanno dato con queste due opere ok il prezzo è più che giustificato mi permetto proprio di dirvelo e sarebbe veramente una gran soddisfazione in primis per voi e per noi far sì che questo sia ancora il collezionismo che circola al di fuori dell'arte che ancora vuole conservarsi nell'elitarismo nell'essere proibitoria no no queste sono le conferme che a noi danno soddisfazione per promuovere quella che è l'arte che ha una storia a sostegno che ha celebrato e segnato dei cambiamenti storici ed effettivi io purtroppo devo salutarvi spero continuate a sentirvi come succede sempre con Stefano dopo la trasmissione quindi post trasmissione e durante la settimana grazie per le conferme le richieste noi siamo sempre a vostra disposizione quindi i numeri sono quelli che trovate in sovrimpressione ci vediamo mercoledì prossimo o dalle 9 o dalle 10 poi vi informeremo sempre con il nostro speciale dell'arte contemporanea grazie a tutti grazie grazie a tutti